Oggi ciambellone all'arancia Per questa ricetta abbiamo bisogno di un'arancia biologica 125 grammi di yogurt all'arancia 100 grammi di burro chiarificato leggermente sciolto a microonde 180 grammi di zucchero 2 uova 300 grammi di farina e una bustina di lievito Come prima cosa rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero per montarle Aggiungo il burro chiarificato leggermente sciolto a microonde In pasto Taglio a pezzettoni l'arancia biologica dopo aver tolto il culetto e la parte superiore Aggiungo lo yogurt all'arancia Io ho usato questo qui perché ha anche un po' di mango all'interno Voi decidete Potete usare anche quello bianco o bianco all'arancia Vedete voi A me piace questo che dà più sapore Mischio per bene lo yogurt E aggiungo l'arancia che avevamo frullato nel mixer Deve venire a pezzettini piccoli 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 Aggiungo la farina e il lievito setacciati Impasto tutto per bene Impasto è pronto Adesso andiamo a metterlo nello stampo Inseriamo l'impasto in una teglia per ciambelloni in uno stampo per ciambelloni di 20 cm di diametro Diamo una sestatina all'impasto e mettiamo in forno a 180 gradi statico e 170 gradi ventilato Eccolo qua Dopo 30 minuti la cottura è perfetta Sufficissimo Eccolo Eccolo Grazie a tutti.